Il weekend che arriva offre non solo l'avvio del campionato di eccellenza ma anche la chiusura dei raggruppamenti di Coppa Italia di promozione. Castelnovese e San Giustinese si giocano al passaggio del turno dopo che entrambe con medesimo punteggio hanno battuto 2 a 1, infatti l'anno laterina. I bianco-verdi in trasferta, gli amaranto al Quercioli, si gioca dunque alle 15.30 della frazione Lorese e in caso di pareggio con qualsiasi punteggio si andrà all'estrazione a sorte. Da effettuarsi la prossima settimana nella sede del comitato regionale. In caso di vittoria di una delle due non c'è ovviamente da aggiungere altro. In ogni caso una valdarnese aretina arriverà alla fase di eliminazione diretta dove la speranza è di trovare anche l'aresco reggello. Dato che questa squadra, vincente 2 a 0 a Ruffina contro l'Audax all'esordio, può accontentarsi addirittura di un pareggio in casa contro l'Antella oppure di una sconfitta con il minimo scarto, una sola rete, per passare il turno. In questo caso sarebbe ancora un match tutto valdarnese a decidere chi raggiungerebbe poi gli ottavi in gara unica in casa della retina delle due.